ciao a tutti cari amici amici sono dell'acquario eccoci qui mia compagnia pronti per l'oroscopo dal 14 al 20 novembre 2022 grazie di cuore per seguirmi sempre vi ricordo se va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti per quello invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia benissimo incominciamo con la stesa attraverso quattro carte tra tarocchi e oracoli amici dell'acquario abbiamo la carta della fortuna e dell'abbondanza carta 21 quindi qua partiamo bene verde speranza vediamo però poi cosa vogliono dirvi le carte di tarocchi abbiamo il 3 di coppe poi vediamo una carta angelico arcangelica per voi dell'acquario abbiamo il 2 di michele e infine vediamo l'oracolo delle porte cosa vuole dirvi attraverso una carta che può uscire al dritto al rovescio abbiamo la serratura la carta numero 29 qui come ho detto poc'anzi c'è un periodo comunque dei giorni fortuiti di successo magari potrebbero esserci proprio delle entrate economiche anche delle entrate di denaro un po' anche inaspettate qui festeggerete per qualcuno festeggerete per voi oppure anche un evento importante che riguarda voi con le vostre amicizie con la vostra famiglia c'è comunque la creazione di complicità di armonia nella coppia in qualunque persona che incontrerete sul luogo di lavoro anche proprio la carta proprio delle amicizie questa c'è proprio anche il fatto di conoscere nuove persone quelle quali staranno un rapporto di amicizia qui però in alcuni casi potrebbe anche darsi che alcuni voi non per tutti ovviamente potrebbe esserci proprio all'attivo una relazione extra una relazione extra che fondamentalmente sta andando anche bene o che andrà bene o che pure proprio incomincerete durante questa settimana quindi qua potreste essere voi che incontrerete un'altra persona con la quale approcciarvi anche se magari siete già fidanzati o sposati oppure viceversa potrebbe anche essere il vostro partner che incontrerà un'altra persona poi ovviamente queste sono sede generali qui non diciamo che non possono valere per tutti voi ok mi raccomando sicuramente una settimana in cui dovete compiere delle scelte potreste anche in alcuni casi essere un po' titubanti essere un po' insicuri però dovete comunque sia prendere una decisione soprattutto se avete il piede in due scarpe avete il piede in due situazioni rapportuali o anche in due situazioni sul fronte vostro privato lavorativo dovete prendere una decisione perché così comunque non potete continuare a lungo dovete anche proprio cercare di trovare un compromesso tra voi quella situazione tra voi quella persona siete anche un po' in lotta con voi stessi perché non sapete cosa fare come affrontare quella situazione per sapere anche un po' le conseguenze derivanti da quell'azione anche perché qui c'è proprio la carta 29 della serratura qua c'è proprio una sorta di diffidenza anche da la parte vostra che non riesce ad aprirsi non riesce ad esporsi c'è anche un po' di timidezza da parte vostra ok quindi qui dovete anche capire le eventuali ragioni di un eventuale di un eventuale insuccesso oppure anche in un periodo di blocco molto probabilmente state avendo un atteggiamento sbagliato nei confronti in primis di voi stessi ma anche delle altre persone forse a causa anche di esperienze diciamo negative che avete vissuto anche in passato oppure anche di una vostra diciamo eccessiva timidezza e quindi in questo caso vi sentite sconfitti vi sentite arenati già in partenza quindi è importante soprattutto lavorare su questo aspetto proprio di apertura nei confronti degli altri perché fondamentalmente il successo anche con le relazioni qualunque stessi c'è dovete un po' più aprirvi un po' più esporvi senza essere diffidenti senza essere paurosi tutto questo perché ne andrà poi di scapito della vostra vita relazionale la vostra vita affettiva ma anche perché no sul fronte lavorativo quindi anche dal punto di vista progettuale lavorativo non fatevi sfuggire questi momenti fortuiti perché in questi giorni potreste non sfruttare appieno le vostre capacità non riuscite a mettervi in mostra in senso buono non riuscite a mettere in luce nonostante avete molta più capacità e molta più competenza ad esempio dei vostri colleghi o anche addirittura dei vostri superiori quindi soprattutto per voi single se state tentennando su due più persone dovete fare la vostra scelta dovete farvi avanti nei confronti di quella persona che davvero vi può dare quello che state cercando ok e quello che ovviamente cercate all'interno di una coppia dovete quindi lavorare sul vostro atteggiamento e proprio sulla vostra sul vostro modo di porvi nei confronti delle altre persone dovete quindi aprirvi maggiormente andate appunto a festeggiare partecipate a un evento sociale dove magari potete anche incontrare persone nuove ok benissimo cari amici vi aspetto sempre qui sull'età come ciao a tutti alla prossima